bella ragazzi Pierone bentornati qui sul nuovo video su me la godo con le sono completamente fuori asse rispetto alla rampa qui con noi oggi Clint, Delufrax, Dredd e Gabo Gisquermaco ma io sono andato dritto personaggi brutti e tristi però ho fatto giusto no raga mi sono parcheggiato non ci credo ma vaffanculo gabbo la scorsa cazzo è in postura hai preso la scorsa troia oddio WTF che cazzo è? prende ma raga mi sono facendo volarmi a tutti e mo si vola si va nel ritorno che è sto rampone che cazzo sei andato dritto aspetta 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 che è che l'ho tenuto l'ho tenuto nooo porca pucca l'ho tenuto oleee nooo l'ho preso vero si però troppo forte l'ho preso io sono andato giù dall'altra parte e anch'io io pure ero blu no cazzo merda sono anche ubriaco io alla guida qua e i miei bei 10.000 dollari su Delux Ron 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 Clink non è che sei andato a Delux GO The Pot rugこう fa il culo no rewarding come sei andato fatto non è arrivato Fra gabo 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 vedo 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 nel volo si 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 secondo mamma m!!!! secondo invoce no raga non ci credo ST'ho passato dentro non me li ha preso basta a monte basta me ne vado al mare dove va Clint dove va Clint intanto non ce la farei mai in 14 secondi quindi me ne vado al mare ragazzi guarda il tempo ragazzi porco 2 veramente no no è per prendere i turbo e basta perchè sennò non ce la fai c'è Clint che balla col sacchetti è vero va Clint che balla col sacchetti anche tu no raga ma dai ma come cazzo posso partire così dai con un piede sospeso in aria eh si e poi completamente fuori assi no no fra madonna fra no dread no io lo sto toccando no 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 sto cadendo a piedi è morto ho visto il nome che è slittato a piedi oh io sono io sono guarda guarda che si ristiantano no calma clint allora andate a destra no raga devo andare a piedi ho perso la moto devo andare a piedi dai fra no dai dai non ci chiedo veramente no con calma 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 per cassa della moto per terra no però è fermo fermo dread ok aspetta che devo sta moto fermo fermo io vado a piedi vaffanculo ma come parto sto no no dai sto schiattando stai a destra capo stai a destra clint stai a destra clint stai a destra si 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 uuuh cado no no delu uuuu siiii uuuuh SLA GIOUSBORRA Fra ha fatto il ninja, ha fatto finta di non vedere e conoscere nessuno E' arrivato subito al traguardo Il miglior giro di Deluxe 4 minuti e 40 Stavo mangiando le patatine Ah ok hai raggiunto DAI Oh Dio che numero che ho fatto regà non potete capire Mi spiegate perché c'è Deluxe che va a piedi Dai volevo andare a piedi ma non si può Fanculo Ok qua il turbo mi piace, il turbo mi piace invece No perché ha girata così la macchina? Che cazzo gli ha preso? E' ubriaca Ha preso dal padrone Ma no che sono arrivato oltre al checkpoint Ma che modo infelice Ok qua c'è un altro volo importante da fare Si vola al ritmo della notte Arrivo Regà arrivo troppo in là rispetto ai checkpoint Adesso come sono esploso Gabbo Chi è esploso regà? Io esploso Frax davanti Ma un mo che non lo uso servirà magari Vediamo Chi era il rosso? Aia 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 con un palo in testa Le sto prendendo tutte Ma che non sta dritto No Ma Gabbo mi è andato dentro e mi ha fatto esplodere Mi è andato dentro Come che schifo dai Ho ucciso un'altra signora Ma perché si è ucciso solo le signore tu? Sii Ma mi taglia l'asta da loro Maleducato infertilente Se pareva No sono finito sul tetto LOL Vedevo che vola Delu che cazzo fai? Sei matto Sei matto cosa mi spari? È dall'altra parte la strada La mia è un go kart No pure la mia è disintegrata Ho recuperato Frax Ma infatti ma non ti ho mai visto superarmi Vabbè È volato Volato Cose strane Io questa invece la prendo e volo sopra a sta casa di merda UUUUH UUUUH Ho tagliato un'evole No Jackpot entra di qua Oh l'evole è invisibile Lo piglia, lo piglia, lo piglia Ma guarda dove mi salta? Basta scendola Basta scendola A me non mi piace questo Non mi piace Dislike La classifica vede Dredd è primo e Frax secondo Tutti lì e Clint ha 0 punti Clint è mai arrivato Mai arrivato Comunque il titolo delle gare è un po' il presagio della penitenza di chi arriverà ultimo E guarda caso Chi arriva ultimo è Clint Quindi Clint nudo Pazzesco Palettino rosso Madonna Devo capire dov'è l'inghippo di questa cosa Eccolo dov'è l'inghippo Oh Alcuno è volato Chi è che ha cercato di andare lateralmente come un bastardo? Ciao ragazzi Ma ci sei andato? Si Imbrogliamo come Gabbo dai No dai non vale Dai ragazzi Ma che imbrogliate la gara? Io pensavo fosse la direzione giusta quella lì Eh no Ma vaffa al culo Gabbo Eh no E la Mi ero verso un checkpoint io Charlie Ecco No E come faccio ad aver preso questo checkpoint? No No Ma pure io no Stiamo facendo le cose insieme Cioè ci sono dei problemi Nooo Clint in sud e primo no Ma vaffa al culo Dai son quinto regà Cioè Messo a superar Clint Hai parlato? No hai parlato perché Quel cazzo di checkpoint eh Non ci si arriva Ah ragazzo non si arriva regà questo qua Porca puttana quello della farmacia Della farmacia Vabbè Quello stemma va a sembrare Cosa non ci si arriva? Sono arrivato Merda è un labirinto incredibile ragazzi Si 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 E' un qualcosa di fantastico sta gara PARCO 2 Ragazzi che cosa incredibile che è? Tipo sale su per il grattacielo da dentro Cioè fai delle robe strane in sta pista Ma solo te ma cosa? Ma dobbiamo sali su Teo? Eh? Si C'ero riuscito No dai Si però devo capire da che parte sto cadendo Ma come fai ad entrare dentro? Devi salire sopra Eh sali sopra Sopra ci entri Parto io parto io Ce la fa 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 Niente non è possibile Questo è più difficile invece Che puttana sono morto Dai ce la devo fa E invece lo prendo UUUUU Al culo Ma no ma non era la regà Al culo Ma guarda solo io Dread e Crient Non ce l'avevo fatto Aia la che parte sto cadendo qua Porco 2 Ma sa che l'ha preso? L'ha preso senza andacce Non tocca Non tocca annacce Tocca vialo e basta Pensa un po' Ok Ok vola adesso ronnino Si No vabbè dai questo qua è difficile No è impossibile regà Ok aspetta che questa è difficilina Va presa tipo così Eh ma pure il mio si sposta tipo Vaffanculo Ok Ok Ecco De Luca Belle stegare stegare mi piazzano parecchio Ce l'abbiamo capito Mi piazzano i fasoli Vai Però ho sbagliato cazzo Dovevo rimanere sui tetti Poi vai sui tetti Ma è fuori di testa sta roba No dai ce lo mi vadano sopra Si Ma perché va a sinistra? Ostia Oddio No dai ce l'ha fatto quest'altro regà Non c'è niente Ah no aspetta è per terra questo Ma come faccio essere secondo È impossibile Si è per terra questo da fare Vai così E questo no però Taffanculo ce l'ho fatta Proprio infattibile altrimenti Ok era così facile Ma porca Tutto facile Aia Ok sono due checkpoint dal traguardo Nessuno che ce l'ha fatta Si Io ce l'ho fatta Si Aia No 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 Dai regà è impossibile scendere Però sono arrivato Ma porca miseria Ma ce l'hai fatta te fra questo Ah fra è già al traguardo Si impennata e impennata fra Ah Secondo me non fa bene Ok Cazzo Ragà io direi che fra ha vinto queste gare Se arriva adesso Eh Gabbo il problema è che adesso non possiamo uscire da lì No guarda guarda Ron Guarda non me la tira così No è una cagata dai fra Impenna un attimo Olè Fra vince signori Olè È incredibile Olè È incredibile Perché non ce la fa Guarda che viene recuperato Eh non ce la faccio Gabbo non hai una vita Si 26 secondi guarda questi due No Ancora Eh signori Il rullo di tamburi per piacere E un po' di atmosfera Per la prima volta in the history Incredibile Ghostfrax senza il god Olè Per un punto Si è incredibile Incredibile Per un punto da JLON Signori Io veramente Una persona Una persona qua zero minuti Non l'avevo mai vista Raga noi vi ringraziamo per aver visto il video Ci vedremo a un prossimo video a breve qui su Melagodo Un applauso a Frax che vince la sua prima gara in the history Un applauso a Clint per essere riuscito Non è facile a fare zero punti in quattro gare Esatto E ci vediamo presto Ascettate un bel mi piace Abbiamo 10.000 mi piace Faccio salutare gli altri Ciao Bella Bella raga Ciao Ciao Ciao